Mancano poche ore al ferragosto con il nostro meteorologo Giovanni De Palma, non possiamo che parlare del tempo che ci aspetta per le prossime ore. Giovanni, è il caso di dire che il caldo ha le ore contate. Sì, ha le ore contate perché questa vasta area di alta pressione che ormai interessa la nostra penisola da diverse settimane, alta pressione di matrice nordafricana, tenderà ad essere gradualmente sostituita dalle correnti atlantiche. Quindi arriva aria più fresca a partire dalla seconda metà della giornata di ferragosto, ma soprattutto nella giornata di domenica, quando è atteso il peggioramento vero e proprio, mentre nella giornata di ferragosto la situazione sarà ancora di attesa, quindi avremo sicuramente degli annuvolamenti già al mattino, ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, saranno possibili delle formazioni temporalesche sulle zone montuose e sulle zone interne in locale estensione, poi entro il tardo pomeriggio, verso le zone pedemontane e colinari che si affacciano sul versante adriatico. Poi ci sarà un'attenuazione della nuvolosità, una temporanea attenuazione della nuvolosità in serata e in nottata, ma ecco che poi assisteremo a un progressivo rinforzo dei venti occidentali, a partire dalla Marsica e dalle zone montuose, con un graduale peggioramento nella giornata di domenica. Proprio domenica, a partire dalla tarda mattinata, aumenterà la nuvolosità sulla Marsica, nell'Aquilano, con delle piogge anche a carattere temporalesco, localmente anche di una certa consistenza. Nel corso della giornata, poi entro sera, questi fenomeni tenderanno ad estendersi anche sul versante orientale della nostra regione, sul settore costiero, dove non si escludono fenomeni di forte intensità, ma la caratteristica principale di questo peggioramento sarà la sensibile diminuzione delle temperature. Diminuzione anche dell'ordine di 8-10 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste ore e che si sono avuti nei giorni scorsi. Vogliamo però tranquillizzare, Giovanni, i nostri telespettatori e dire che l'estate non è finita? Assolutamente no. È pur vero che avremo un ritorno delle temperature che si assesteranno al di sotto delle medie stagionali. Questo è pur vero. Per la prima volta dopo quasi 50 giorni andremo sotto media. Potrà respirare? Sicuramente, sicuramente. L'AFA verrà spazzata via dalle correnti atlantiche e questa è una buona notizia. Poi nel corso dei prossimi giorni assisteremo sicuramente ad un nuovo aumento delle temperature, ma il caldo sarà decisamente più sopportabile.